Eccoci qua ragazzi, pre-partita di Fiorentina Milan, buongiorno a tutti da Lorenzo Mancini Tanto grazie che stiamo già arrivando addirittura, pensate un po' a 20 iscritti ragazzi, un traguardone 20 iscritti Quindi mi raccomando continuate a far iscrivere i vostri amici, condividete quindi il video, commentate, mettete mi piace Fatemi sapere appunto nei commenti un pronostico anche azzardato della partita di domani Ma adesso incentriamoci nel core del video, andiamo a vedere un attimo quali sono le vicende interne In Casaviola analizziamo un po' il Milan e la situazione anche dopo la partita contro il Manchester e l'eliminazione dalla Europa League E facciamo anche un po' un pronostico nella fine azzardato, quindi rimanete fino alla fine del video Allora intanto partiamo dalla partita di ieri sera che si è conclusa al tardini tra Parma e Genoa Finita per 1-2 in favore dei Liguri con una doppietta di Scamacca, se non sbaglio ho visto un pochino il primo tempo Una partita un pochino spezzettata Gran gol di Graziano Pellet tra l'altro, veramente un gran gol di Graziano Pellet che si riaffaccia al campionato italiano con una rovesciata spettacolare Comunque detto questo non ci interessa la Fiorentina e quindi dal punto di vista dei risultati sarebbe stato molto meglio un pareggio Perché così il Genoa sarebbe rimasto a pari punti con la Fiorentina, mentre adesso si trova a due lunghezze sopra di noi a 31 Mentre noi rimaniamo lì a 29 Il Parma se non altro rimane confinato nella zona retrocessione insieme al Crotone e al Cagliari per adesso Ma è comunque corta lì la zona ragazzi, quindi sempre attenzione e mai mai adagiarsi sugli allori come avevo detto Allora, altra cosa, vicende interne, recuperiamo Castro, Amravat e Biraghi Ho letto molte cose sull'assenza di Biraghi e sul fatto che si sia ristabilito Ho letto su un sito che parla di Fiorentina No, ma Biraghi lasciamolo in panchina Insomma, commenti anche un po' simpatici ma fino a se stessa alla fine non è che Non capisco tutto quel nastro su Biraghi ragazzi, ve lo dico, sono sincero Non credo sia, l'ho detto mille volte, io non credo sia lui il problema della Fiorentina Tanto che, per dare conferma al mio ragionamento, è stato convocato da Mancini insieme a Che condivido il mio stesso nome, perché ne capisce di calcio, no? È stato convocato Biraghi insieme a Castrovilli per la pausa nazionale per le partite della qualificazione ai mondiali del 2022 Quindi comunque si tolgono anche questa piccola soddisfazione e ce la togliamo noi E soprattutto manteniamo quel minimo di credibilità nonostante la posizione un po' mesta nella classifica che occupiamo fino adesso Andando a parlare della partita ragazzi, come ho scritto nel titolo, non dobbiamo avere paura del Milan Assolutamente no, perché? Allora, il Milan ha tutto Cioè nel senso, ha il pronostico totalmente a suo favore Perché incontro una Fiorentina che quest'anno non è assolutamente brillante Il Milan è il più forte Milan degli ultimi 6, 7, 8 anni più o meno Forse anche potrei esagerare un altro pochino perché l'ultimo Milan si è visto Mi pare quello dopo il triplete fu l'ultimo scudetto che hanno vinto Comunque, quando si parla di triplete si parla sempre del triplete dell'Inter perché è stata anche lei l'ultima a vincerla In Serie A E quindi insomma un Milan che adesso è molto più forte rispetto agli ultimi anni L'ultima partita sta un pochino pencolando Ha perso in casa contro il Napoli Forse anche per un po' di stanchezza Non si sa comunque perché erano reduci se non sbaglio anche lì dalla partita d'Europa League All'andata all'Old Trafford se non sbaglio contro l'United Che pareggiarono 1-1 Lì ho visto un grande Milan Lì ho visto veramente un grande Milan nella gara di andata d'Europa League Mentre nel ritorno ho visto un buon Milan nel primo tempo Soprattutto mi hanno fatto molta, molta, molta paura Che sì E anche Sele Mekerso un po' E Teo Hernandez ovviamente Sono tre giocatori molto, molto, molto forti Se non altro mi pare che Teo Hernandez Non so se è stato squalificato poi per quella storia che ha messo su Instagram Comunque non si sa se c'è Teo Hernandez Non ci sarà sicuramente Leao Non ci sarà Romagnoli e Calabria molto probabilmente C'è una cosa però ragazzi Che ha un altro giocatore Ha un'altra coppia di giocatori Mettiamola così Che mi fanno molta paura rispetto a quelli che vi avevo citato prima Che sono Tomori e Kier Scusatemi Che sono due grandissimi difensori Ora non mi rimetto a regirare i video Se no ragazzi ci metto mezz'ora a fare questi video Quindi colpo di tosse bello della diretta come si dice Una coppia appunto di difensori Molto, molto esperta e molto forte Esperta perché c'è Kier Che dalla sua parte ha l'età Ma ha anche l'esperienza in altre grandi squadre E Tomori che viene da un campionato E' vero non mi sembra sia Mi sembra sia del 98 o del 97 Tomori Comunque Campionato inglese Veniva dal Chelsea Quindi ottima preparazione atletica anche lì Viene in un Milan Dove riesce a far prevalere molto la sua fisicità Anche nel campionato italiano Quindi un appuntamento da non perdere lo scontro Tra Vlaovic e questi due difensori E per questo motivo Ritornando ovviamente alla nostra Fiorentina Il nostro Dusan Come ho sempre ricordato Non dovrà mai essere lasciato solo Dovrà essere sempre accompagnato In modo che Si diciamo Si distacchino i due centrali della difesa dal Milan Dalla marcatura di Dusan Perché sarà attanagliato domani Ed è stato detto Non mi ricordo da chi Che forse da sconcerti Che Dusan non toccherà Dusan non toccherà palla Molti hanno detto Oh ma che vuole questo sconcerti Non ti fa nemmeno per la Fiorentina Fai il finto tifoso In realtà occhio e potrebbe anche un po' zeccarci Perché domani incontrerà due difensori Veramente veramente molto ostici Quindi mi raccomando Faccio una raccomandazione A Iseric e Riberic Che probabilmente domani giocheranno Ragazzi accompagnatemi Vlaovic fino a un porta Perché insomma Mi dovete distrarre gli uomini Scherzi a parte Detto questo appunto Non dobbiamo avere paura domani Anche perché giochiamo in casa Non è un fattore imprescindibile adesso Che ti fa vincere le partite Ma comunque conosciamo meglio il campo Diciamo E riusciremo sicuramente Domani a schierare Se non sbaglio Sia Pulgar Che Castrovilli Che Buonaventura Poi vedremo anche Dalle formazioni titolari Sicuramente la difesa A tre sarà la solita E in porta Ritraveremo come sempre Il nostro amico Bartolomei Drongoschi Detto questo ragazzi Quindi domani Atteggiamento Non passivo Ma non troppo C'è nel senso Attenti in difesa come sempre Ma cinici Come siamo stati Con il Benevento Nelle ripartenze Perché lì si vedrà Veramente la differenza Perché il Milan È molto una squadra Giochista rispetto Alla Fiorentina Il Milan riesce A un buon gioco L'ho visto contro Lo United Nel primo tempo È riuscito a esprimere Un buon gioco Soprattutto con la linea Di centrocampo Che spesso Spezza il gioco E lo fa ripartire Se non sbaglio Dovrebbe rientrare Addirittura Benasser Ci dovrebbero essere Sia anche Tonali e Mete A accompagnare No scusatemi Cioè ci dovrebbero essere Comunque Tonali e Mete In panchina Pronti a subentrare Al posto di un Kession Di un Benasser Che dovrebbero formare La coppia di Mediani Quindi molto qualitativa E fisica Quindi bisognerà Stare molto attenti C'è la Noglu L'ho visto un pochino In calo L'incognita vera È lo scontro Appunto Ibrahimovic Con i nostri difensori Bisognerà vedere Intanto se Ibra giocherà E se si rischiereranno Un'altra volta Cassiglieco Come punta dal primo minuto Perché non mi è sembrato Un grandissimo punto di riferimento Nella partita contro Lo United L'ala O il trequartista Spagnolo Se ci sarà Ibra Dal primo minuto Intanto mi pare Di aver capito Che Non si Ci abbia 60 minuti Nelle gambe Quindi vediamo Se Pioli Lo rischierà Dal primo minuto Per poi sostituirla A partita in corso Non c'è Manzucic Il suo sostituto naturale Quindi un Ben per noi Anche perché Manzucic Io sinceramente È un giocatore Che stimo molto E che mi fa molta paura Quando lo vedo giocare Contro la Fiorentina Bisognerà stare attenti Ovviamente a tutti Una partita che va preparata Nei minimi dettagli E che è una partita Che va preparata Come una finale di Champions Il Milan Il Milan va preparata Come una finale di Champions Contro il Genoa Andrà preparata Come un'altra finale Di Champions League E non ci possiamo permettere Ragazzi Di perdere Punti Domani Scusatemi Perché È un po' pretenziosa Come affermazione È vero Ma Viste date le circostanze Io per un pareggio Firmo È vero Ma Non Non penso Che la vittoria Sia realmente Proibitiva Soprattutto se ci crediamo E se il gruppo È veramente unito E va verso Un unico obiettivo In più vorrei fare Anche un favore Non scherzo ovviamente Al A uno Alberto Che ha commentato Anche sotto l'ultimo video Così Fermiamo il Milan E l'Inter Va verso lo scudetto Scherzi a parte Ragazzi Io per domani Un pronostio E farei Potrebbe essere Realmente Un 1x Addirittura E quindi Speriamo in una vittoria Della Fiorentina O in un pareggio Ma la voglio Voglio una partita In cui si veda Che la Fiorentina Ha veramente voglia Di combattere Di sputare sangue Di lasciare Sul campo Tutte le energie Nei 90 minuti Disponibili Regolamentari Detto questo ragazzi Sempre Forza Viola E noi ci vediamo Nel post partita Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi